Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca politica. Si sono incontrati con il giornalista Marcello Veneziani, diverse associazioni libere del territorio regionale che ponendosi alcune domande e confrontandosi in un dibattito aperto con veneziani hanno voluto capire le dinamiche politiche che oggi ruotano all'interno della destra sociale e ancora di più nell'area di Fratelli d'Italia. È stata anche l'occasione per ascoltare alcune considerazioni e riflessioni rilasciate ai nostri microfoni prima dell'evento che si è svolto alla barchessa del Comune di Limena. Un'altra può essere prima l'Italia, un'altra può essere prima il merito che è importante perché nel merito entra la qualità, entra una serie di considerazioni. E un'altra cosa abbastanza importante è tornare ad amare la propria tradizione dove per tradizione si intende il legame con i nostri padri ma anche il legame con i nostri figli il senso della continuità della storia e dall'altra parte anche l'amore verso i luoghi che rappresentano queste tradizioni, quindi i nostri centri storici, i nostri tempi, le nostre biblioteche le nostre chiese, le nostre piazze che sono un unicum veramente a livello mondiale. Quindi amare la tradizione non è soltanto un culto del passato ma è davvero il culto di ciò che è presente ciò che è vivo e ciò che è più dura del nostro paese quando tutto cambia e tutto finisce. La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un faccendiere parmigiano APF e le sue iniziali il quale terminato di scontare una precedente misura restrittiva che lo aveva bloccato per oltre un anno aveva immediatamente ripreso in grande stile la sua attività trufaldina infatti si vantava di avere sedi ovunque in Nuova Zelanda, in Israele, Giappone, Singapore, Grecia ed era riuscita a ottenere da ignali clienti a titolo di spese per istruzione delle relative pratiche consistenti somme quantificate in alcuni milioni di euro. Nel corso della predetta operazione denominata Remida le fiamme gialle avevano eseguito numerosi arresti e decine di perquisizioni in tutta Italia. L'attività di monitoraggio, le indagini tuttavia non si sono mai fermata è considerata anche la pericolosità del principale responsabile coinvolto e la perdurale necessità di individuare liquidità o beni a lui riconducibili. L'illecito modus operandi è risultato però il medesimo dell'altra volta già accertato ma aggravato da condotte ancora più insidiose. In effetti negli ultimi giorni APF ha addirittura esibito alle proprie vittime un decreto falso con l'intestazione della Procura della Repubblica di Parma e la firma di un magistrato attestante il disposto di sequestro e la restituzione dei conti correnti per oltre un milione di euro e ovviamente di altri beni effettivamente sottoposti a sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza. Nel corso di questa ultima perquisizione all'interno di una elegante villa in affitto a Parma eseguita anche con l'ausilio delle unità cinofile adestrate per la ricerca dei contanti è stata rinvenuta e sottoposta a sequestra valuta per oltre 20 mila euro e inoltre si è provveduto a pignorare tutti i beni di valore della sua disponibilità e a prendere in possesso anche di un'autovettura di lusso, una Bentley. Sono finite purtroppo nel peggiore dei modi le ricerche di un 15enne di Abano Terme che ieri pomeriggio si era allontanato dall'abitazione di famiglia mandando un messaggio telefonico alla mamma nel quale manifestava intenti suicidi. Subito avvisati, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno portato poi al ritrovamento del giovane. Il cadavere del ragazzo è stato trovato senza vita a Torreglia in località Monte Pirio luogo deserto ai piedi dei colli euganei. Il ragazzo si sarebbe lanciato da una parete di roccia del monte. Ancora sconosciuti i motivi del gesto, secondo i conoscenti, la famiglia e il giovane non avevano particolari problemi. Per salvare un cagnolino ferito in mezzo alla strada, Montagnana aveva oltrepassato in auto un incrocio con semaforo rosso, ma i punti della patente che aveva perso per la multa gli sono stati restituiti dal giudice di pace di Rovigo. L'uomo dipendente di una cop che svolge anche il servizio di Acalapiacani si è visto riconosciuto il fatto di aver agito in stato di necessità ed è quindi stato dichiarato non punibile. La multa invece è stata pagata dalla Cop che aveva fatto intervenire la Acalapiacani per la segnalazione di un quattro zampe a zonzo per le vie. Quando l'addetto era giunto sul posto, un incrocio appunto fornito di T-Red, aveva scoperto che la bestiola era stata investita da un'auto ed era ferma a terra. Senza pensarci due volte, aveva oltrepassato il semaforo per salvare proprio il cagnolino e beccandosi la multa. Tre persone ferite e di cui due gravi due arresti. E questo al momento il bilancio di una sparatoria avvenuta questa notte dopo un inseguimento tra due auto lungo la provinciale 350 tra Piovene Rocchette e Sant'Orso nel Vicentino. Gli arrestati sono Riccardo Crestani, 40 anni, il figlio Roberto, 18 anni. Il primo ha sparato due colpi con un fucile da caccia calibro 12 contro un marocchino di 37 anni che si trova attualmente in proniosi riservata all'ospedale di Sant'Orso. Nello stesso nosocomio sono ricoverati anche Riccardo e Roberto Crestani. Secondo quanto riferito dai carabinieri, Crestani aveva trascorso la serata in un bar a Piovene Rocchette con il figlio Roberto, l'ex convivente e il suo attuale compagno, appunto, il marocchino. I gnoti questa notte si sono introdotti in un'azienda a Sacco Longo in provincia di Padova, in via Alessandro da Vinci. Una volta all'interno della struttura hanno rubato la cassaforte contenente 3.000 euro in contanti ed altri 3.700 in buono acquisto. Inoltre hanno rubato due bici elettriche del valore di 15.000 euro sul caso ora indagano i carabinieri della locale stazione. Mi ha caricato in macchina mentre facevo l'autostop, poi mi ha violentato. Non è vero, abbiamo contrattato una prestazione sessuale, ma lei non ha finito il rapporto e allora io non l'ho voluta pagare. È stata una battaglia di dichiarazioni in aula tra i due protagonisti di questa storia. Alla fine la bilancia della giustizia ha pesato a favore dell'uomo, un 37enne di Belluno. Ieri è stato assolto in tribunale a Treviso dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una prostituta trentenne rumena che lo accusava di averla stuprata. Per il giudice invece non ci sono elementi decisivi per dimostrare che quegli abusi si siano effettivamente verificati e l'imputato che da Belluno era sceso fino in provincia di Treviso per trovare compagnia sulla statale Pontebana è riuscito ad evitare una pesante condanna. Pare che lei si fosse stufata di un rapporto sessuale che non finiva mai. Lo chiamavano il Duca, a volte anche il Marchese e ascoltando le conversazioni registrate da una cimice installata in una BMW rubata ad Aviano che i poliziotti di Pordenone hanno scoperto il soprannome di Alan Cassol, 21 anni, di Fontanelle, che è il figlio di Albano Cassol, il rapinatore ucciso a Ponte di Nanto, il 3 febbraio del 2015 dal benzinaio Graziano Stacchio, dopo il colpo alla gioielleria Zancan. Alan, nonostante la giovane età, è tra i protagonisti della banda di Sinti, specializzata agli assalti al Bancomat con tanto di esplosivo. Il questore di Padova chiude per 30 giorni il restaurant Africa Soul. Ricordiamo il provvedimento di sospensione adottato secondo l'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza trova fondamento nella circostanza che il locale rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati, spesso anche violenti, la cui presenza crea gravi turbamenti per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella programmazione del Comune in occasione delle prossime festività natalizie non mancano le proposte di carattere culturale. Tra queste vale la pena di menzionare l'evento Natale in Arte, Padova-Urfs-Picta. Ben si colloca in tale ambito l'organizzazione di un convegno da parte del Dipartimento di Scienze Storiche della Università di Padova diretto dal professor Fontana, che vuole scaldagliare a livello scientifico la Padova-Carrarese sotto il profilo sociale, culturale, economico ed artistico. Provvedimenti di viabilità li vediamo. Chiusura temporanea al traffico veicolare di via Muzio a Tendolo, area di intersezione con il ramo secondario a fondo naturale in prossimità del numero civico 10 dalle 8.30 di lunedì 11 dicembre a venerdì 22 dicembre per lavori di scavo. E ancora in zona Volta Barozzo, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Rudena, nel tratto compreso tra via Cappelli e via Bellano, mercoledì 20 dicembre dalle ore 8 alle ore 14. È stata presentata a Padova questa mattina in fiera, la fiera dedicata all'Oriente. L'8, 9 e 10 e ancora il 15, 16 e 17 dicembre arriva il Festival dell'Oriente che torna presso i padiglioni di Padova Fiere. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folcloristici e ancora medicine naturali, concerti, danze e arti marziali che si alterneranno nelle numerose aree tematiche. Valorizzare gli agriturismi del territorio e proteggere le loro caratteristiche attraverso controlli che garantiscano al cittadino le peculiarità, la genuità, i prodotti legati al territorio e alla tradizione. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa che la provincia di Padova e il Corpo dei Carabinieri Forestali vogliono formalizzare per garantire un ampio raggio di collaborazione. Alla conferenza stampa di questa mattina, di presentazione del protocollo, erano presenti il consigliere provinciale delegato alla Polizia Provinciale, Vincenzo Cottardo, e il colonnello dei Carabinieri Forestali, Daniele Famiglietti. Vediamo. Sono molto importanti perché hanno l'obiettivo non di punire l'attività agrituristica, ma hanno l'obiettivo di preservarla, di garantirla e soprattutto di garantire al consumatore che nel momento in cui va, si rivolge ad un agriturismo per un pranzo o per una cena, è consapevole di quello che consuma e gli viene garantito che i prodotti che gli vengono venduti sono prodotti di chiara e limpida produzione locale e propria. Le regole ci sono perché ogni azienda agrituristica ha presentato in provincia il proprio piano agrituristico, per cui è chiaramente scritto nero su bianco quali sono le caratteristiche di quell'agriturismo e soprattutto cosa e quanto e come quell'agriturismo produce, ma soprattutto anche il consumatore deve essere consapevole di cosa va a consumare, di quali devono essere le caratteristiche del cibo di cui fa uso e qual è la provenienza in maniera chiara, per cui noi vogliamo garantire il buon nome dell'agriturismo, la buona condotta dell'agriturismo e soprattutto un utilizzo dell'agriturismo consapevole da parte dei consumatori. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello di finanza e progetti, la società che aveva portato davanti ai giudici il cambio di sede del nuovo ospedale di Padova, ora focalizzato in Padova Est. Hanno agito a secondo i giudici nella maniera corretta, sia il comune, sia la regione, sia la provincia e anche l'azienda ospedaliera e lo Iov. Finanza e progetti aveva chiesto 150 milioni di euro di danni, il ricorso respinto ora permetterà di lavorare sul nuovo ospedale. La sentenza di fatto apre la strada a Padova Est, come ha ribadito il presidente della regione Luca Zaia, confermando i 50 milioni di euro sul nuovo ospedale di Padova e la disponibilità a fare l'intervento a Padova Est. L'orientamento sembra comunque quello del doppio polo, con gli edifici di via Giustiniani che resteranno quindi attivi. sentiamo e abbiamo avvicinato Roberto Giaccon, dello studio Giaccon, per capire come e che cosa accadrà nei prossimi anni a chi ha immobili in questa zona del nuovo ospedale. Giaccon. Buonasera a tutti. E allora, questi immobili che sono da anni ormai in zona Padova Est, avranno una rivalutazione con questo nuovo polo? Beh, si pensava anche di quelli di Padova Ovest inizialmente, nel senso che questo è che attribua allo spostamento dell'ospedale dalla zona attuale del Giustinianeo alla nuova idea che c'era inizialmente a Padova Ovest, aveva portato anche a chi aveva di terreno in zona a pensare che in futuro, anche degli immobili che erano già vetusti, che si potesse aumentare di valore. La realtà potrebbe essere effettivamente un polo come quello dell'ospedale attualmente di Padova, interessante, diciamolo così, nel male di tutti i reparti che ha, e comunque come centro d'eccellenza anche per la parte tra pianti, è normale che possa portare alle varie zone in cui verrà costruita la nuova sede comunque un aumento di prezzo, una rivalutazione. Padova Ovest è una zona interessante per gli spostamenti e soprattutto è vicina anche a quella che è l'attuale ZIP, quindi zona artigianale e industriale di Padova, con già un suo progetto di rivalutazione fermo da tanti anni, che però potrebbe essere questo il momento in cui nel prossimo, penso, quinquennio, ci sia una rivalutazione complessiva di tutta la zona. Quindi una sorta di rivalutazione, tu curano soltanto relativamente alla zona Sallazzano, ma anche estesa alla zona industriale di Padova. Io penso proprio di sì, perché comunque è un interlam tutto interconnesso, quindi sì, sicuramente. Torniamo invece a parlare della nuova finanziaria che prevede una serie di agevolazioni per chi ama coltivare i giardini, anche quelli da poggiolo, diciamo così. Come fare per ottenere la defiscalizzazione che hanno previsto? È stata una cosa molto interessante e anche divertente quella dei giardini per la nuova fiscalità del 2018. Cosa prevede? Prevede una detrazione fiscale del 36%, più o meno come si fa per le istrutturazioni edilizie, per chi va a fare delle spese relative al verde, sia privato, quindi di case singole o di giardini singoli, ma anche, pensiamo anche a dei poggioli, nell'ambito di quella che è la creazione di spazi verdi, quindi di seguirsi proprio il proprio terrazzo, il proprio giardino. Ecco, Giacomo, ma è il caso di farseli realizzare da professionisti e poi attraverso il professionista chiedere la defiscalizzazione o si può anche usare il famoso brick break? Allora, in teoria per avere la tracciabilità della defiscalizzazione si deve avere i bonifici parlanti, quindi comunque bisogna avere un pagamento col bonifico con la distruzione edilizia, fondamentalmente ogni sede hanno la voce apposita nei bonifici, perché altrimenti il pagamento semplice e puro non ha la tracciabilità, quindi in certi casi è opportuno affidarsi a determinati dittori a professionisti o quantomeno ai fornitori l'acquisto di sementi o l'acquisto anche di piante deve essere comunque tracciato con un bonifico, anche perché sappiamo che per i proprietari non è solo la prima casa che va a riferimento a questo, ma tutti i beni immobili che hanno a disposizione, quindi il tetto massimo della spesa è 5 mila euro per il giardino, se io ho due case posso detrarre sia per l'una che per la seconda casa, quindi prima casa e seconda casa, con il limite di utilizzo massimo che faccio per il mio giardino, per la mia terrazza che vado a riqualificare a verde. Bene Giaccona, io la ringrazio, poi ci sarà ovviamente da discutere su come presentare queste carte, ma immagino che ci voglia il professionista che in qualche maniera aiuta poi il contribuente a sottolineare questa defiscalizzazione. Sicuramente, poi se i nostri telespettatori hanno bisogno noi siamo sempre disponibili a seguirli. Bene, grazie Giaccona, noi continuiamo con il telegiornale. E prima di chiudere, lo sport. E parliamo di sport, la pagina si apre inevitabilmente con la Virtus e le sorti della Virtus che abbiamo lasciato qualche settimana fa, purtroppo in difficoltà, ma adesso due incontri, due vittorie. Sì, ciao Massimo, buonasera a tutti. Ciao Righi. Allora, due vittorie, una contro l'Eco, la più importante, contro una delle favorite alla promozione, dominata, molto dominata, è arrivata 84-82, un po' di thriller finale, però insomma ci poteva stare con una delle squadre più forti del campionato di Serie B. Per quanto riguarda la partita di ieri, di mercoledì, vinta 70-59 contro Dejio, una diretta concorrente per la salvezza, i primi tre quarti abbastanza sul chi va là e per poi, insomma, vincere, arrivare, portare a casa il bottino pieno. Adesso il weekend, il weekend si apre. Sabato, sì, sabato a Piacenza, contro la prima in campionato, Piacenza che sta tesserando, se non lo tessera oggi, speriamo di no, un americano nuovo, naturalizzato italiano, visto che domani è festa, speriamo che non riescano a tesserarlo, perché sennò veramente è dura. Siete nei guai, come si suol dire. È dura, è dura. Bene, comunque il progetto è quello di ritrovare una Virtus agguerrita e mi pare che comunque la sede storica della Virtus in qualche maniera porta bene. Allora, Rubano porta bene, perché naturalmente, essendo una struttura più piccola della Chioia in Arena, il pubblico è più attaccato ai giocatori e dunque dà più forza. Si fa sentire di più, insomma. Bene, allora, noi ci aspettiamo che ci vorrai raccontare ancora l'ennesima vittoria della Virtus e noi ovviamente ridiamo la linea al telegiornale. Chiudiamo qui la nostra pagina di informazione, non prima di avervi ricordato l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con il consueto appuntamento del giovedì sera con il Tarlo, la politica e l'attualità condotti in studio da Alberto Salmaso. Grazie per averci seguito, buona visione dei nostri programmi. Grazie a tutti.